Buonasera a chi mi sta seguendo, chi mi seguirà nei prossimi minuti, un saluto mi sembra opportuno dopo una presenza così massiccia negli scorsi mesi e tanti video prodotti, ma bisogna dire che devo ringraziare il lockdown perché in effetti non avrei mai potuto avere tanto tempo e spendere su YouTube. Metto le cuffie perché così si sente meglio probabilmente. Come vi dicevo, l'evidente quantità di tempo che ho avuto a disposizione è stata providenziale dal mio punto di vista per l'attività che intendevo svolgere di informazione su queste organizzazioni perché non mi occupo solamente dei testimoni di Geova e come ho anticipato già nell'altro video, comunque ho intenzione, sto raccogliendo appunto così il materiale per produrre dei video anche sulla Chiesa Cattolica, cioè su quello che è il mio punto di vista come Ministro della Chiesa Cattolica, anche su cose che vengono all'interno della Chiesa Cattolica con molta tranquillità, ne parlerò, però ho cercato di dividere proprio per non fare confusione le due cose, questo è un canale che si intitola Cosa insegna realmente la torre di guardia. Dall'alto, all'alto, dal basso, di 25 anni ormai in cui appunto frequento la letteratura della torre di guardia e ho conosciuto veramente tanti testimoni di Geova, anziani, ho pensato, lo dico per l'ennesima volta perché questo fatto a volte vedo che non viene capito, ho pensato di mettere a disposizione questo tipo di conoscenza che ho in un canale. I risultati in termini di riscontro positivo che ho avuto mi hanno incoraggiato a continuare, continuano a scrivermi delle persone, perché non fai più video, mi sono stati molto utili, eccetera, cosa volete che faccia? No, me ne frego, chiudo il canale, non faccio più video, mi sembrerebbe anche poco, veramente poco carino, non sto facendo il divo, non sto facendo perché vi assicuro appunto che nella mia vita di sacerdote, di ministro di una chiesa ovviamente ho altre cose a cui pensare. Sono anche insegnante, per me questa è una cosa bellissima, poter avere rapporto diretto con persone che comunque con le quali non si è semplicemente amici, perché l'insegnante non è un amico e non dovrebbe essere troppo anche amico, però l'affetto, come diceva Erasmo, da Rotterdam è il primo passo verso la conoscenza, cioè è un rapporto in cui c'è la fiducia, c'è il rispetto, c'è il rispetto reciproco, quindi non sono dei bamboccioni, non sono dei cretini, non sono delle persone da trattare dall'alto al basso assolutamente e forse probabilmente imparato più io in questi anni di insegnamento da loro che quanto loro da me. Parlo del fatto religioso, una storia del pensiero su Dio, quindi non è un'ora di catechismo quella di religione, spesso viene confusa in questo senso, ma l'ora di insegnamento di religione, anzi a giorno d'oggi è un'occasione molto importante, ho avuto anche una vera soddisfazione quando negli ultimi insegnamenti ho avuto due ragazze musulmane che hanno chiesto di fare religione con me, perché si riflette sul fatto religioso, è chiaro che poi presento anche il mio punto di vista come credente nella persona di Gesù, perché ho aderito nella mia vita a lui, chi è lui per me, come dice Cesare di Filippo, la gente che dice che io sia, però poi soprattutto la domanda più importante, ma tu, voi che mi volete seguire, chi sono io per voi? E questa è la domanda più importante, è la domanda che bisogna porsi ogni giorno, in questo canale ci chiediamo chi è Gesù Cristo, l'operatore di guardia e lo stiamo vedendo quanto poco posto, molto marginale occupa rispetto a quello che invece gli dà la scrittura. ecco, questa disinvoltura nel modificare la scrittura è quello che mi ha sempre colpito molto in questo tipo di organizzazione come quella dell'attore di guardia. Chiunque con occhio così sereno, disinteressato, senza paraocchi, prende in mano quello che si chiama appunto traduzione interlineale della scrittura, chiunque faccia uno studio di questo tipo, io gli assicuro che dopo anche solo una settimana non può che giungere a questa proprio ovvia conclusione. Questa organizzazione non si fa scrupolo di modificare la scrittura a proprio uso e consumo, secondo quello che è la sua preconcetta dottrina. Come del resto anche affermano loro stessi nell'introduzione della traduzione del Nuovo Mondo, dicono ci accusano che la nostra scrittura risenta delle nostre convinzioni dottrinali, che sia stata modificata apposta. Questa accusa è fondata, scrivono proprio così, però non è stata fatta in maniera indebita. Quindi ammettono le modifiche, carissimo Lorenzo, buonasera a te. Ammettono le modifiche, però al tempo stesso dicono che l'abbiamo fatto, come ad esempio, faccio un esempio, Colossesi 1.16, le famose parentesi in cui hanno aggiunto altre, panta, panta in greco vuol dire il tutto, tutte le cose, è un neutro plurale, io ho sempre il problema, l ed r, tutte le cose sono state create per mezzo di lui, tutte le cose, ta panta, di half to again, tutte le cose sono state create per mezzo di lui, chiarissimo. Quindi diceva, ta panta perché tradurre tutto aggiungendo fra parentesi altre e poi, e poi a un certo punto delle edizioni della Bibbia anche togliere questa parentesi, quindi quella che è una tua aggiunta, che badate bene, l'aggiunta si può anche fare per spiegare meglio un passaggio probabilmente della scrittura, ma quando questa aggiunta modifica il significato, perché se dico io e gli altri bolognesi, faccio di me un bolognese, ma io sono pugliese, quindi se dico io e gli altri, se invece io dico gli altri bolognesi, chiaramente divento anche io bolognese, ma se io dico io e tutti i bolognesi, non necessariamente io sono bolognese, certamente lo sono, lo divento se dico e tutti gli altri, io e tutti i bolognesi, non necessariamente io sono bolognese, come di fatto non lo sono, anche se abito a Bologna, come sapete. E a proposito, invito non l'ho mai fatto, ma insomma chi vuole venirmi a trovare mi fa molto piacere, parrocchia di San Savino di Corticella, una zona molto carina tra l'altro di Bologna, e così, quindi chi con grande disinvoltura, e questo è solamente uno dei tanti, tanti esempi, loro ad esempio portano il professor Bidan come esempio di un accademico che, anzitutto Bidan è un esperto comunque certo delle lingue, sì, ma soprattutto uno storico delle religioni, loro non dicono, in questo momento io non posso mostrarvi, lo farò a tempo debito, il passaggio in cui Bidan, lo stesso Bidan, presenta delle criticità, non è che Bidan ha detto la traduzione del nuovo mondo è la traduzione migliore in assoluto e assolutamente fantastica, no, anche lui ha delle riserve su questa traduzione. E comunque vi invito a riflettere sul fatto, o c'è una congiura a livello mondiale di tutto il mondo delle esegesi della Bibbia sulla traduzione del nuovo mondo, oppure una domanda bisogna anche porsela, se questa traduzione non compare mai, mai, mai citata nei siti specializzati sulla scrittura, mai, in nessun sito viene citata, in nessuna rivista specializzata viene citata, questa è carta straccia, scusate, sono molto diretto, quando si parla di Bibbia bisogna rispettare il Dio Onipotente che ce l'ha donata. La traduzione del nuovo mondo non è degna di essere chiamata Bibbia, perché? Perché fa una cosa gravissima, altera coscientemente la parola, aggiungendo, sottraendo, cambiando. Ecco, chi fa questo con disinvoltura si sta ponendo al di sopra della parola e quindi al di sopra di Dio. Questo non è stato fatto solo da testimonio di Giove, è chiaro, a volte anche in alcuni frangenti storici ci sono state delle modifiche della parola, della Chiesa Cattolica è successo, il famoso coma giovanneo, ok? Sono solamente dettagli storici questi qui, adesso, a giorno d'oggi, nessuno si sognerebbe di modificare in maniera così palese. Purtroppo, chi fa questo tipo di studio è profondamente, diciamo, influenzato da una cosa, come dico sempre. Chi riceve queste critiche sulla traduzione del nuovo mondo, il testimone di Giove, ha veramente parte da una dose di affetto profondo verso la società Torre di Guardia, verso il corpo direttivo, presentato come poverini, hanno assolto un compito umilmente, nessuno di loro è agli strumenti. Lo sappiamo benissimo chi li ha tradotti innanzitutto questa Bibbia, è inutile che ci nascondiamo dietro in dito, l'hanno tradotta loro, quelli del corpo direttivo, lo hanno anche ammesso, del resto, in un documentario anche recente. Bene, andiamo a vedere i titoli accademici di questi signori. Mi permetterei io di prendere i veda e con uno vocabolarietto di sanscrito cominciare a tradurre? Non lo farei mai, posso farlo per conto mio, per di porto, ma non presenterei mai questo come una traduzione ufficiale delle scritture. Quindi quanta presunzione che c'è dietro questo? Quindi purtroppo questo, ripeto, e sono discorse parole al vento, quando parlo con un testimone di Jehovah parte da questi occhiali che è quasi impossibile togliere, perché la parte affettiva è molto più importante la componente affettiva di quella razionale nel testimone di Jehovah, perché tutto quello che tu, questo prete, mi sta dicendo, mi sta dicendo delle cose contro mia madre, contro colei che mi ha aperto gli occhi, che ha cambiato la mia vita. E su questo posso dire che una buona dose di colpa c'era la Chiesa Cattolica su questo successo. Ma vi faccio una domanda, cos'è bene? Ignorare la Bibbia perché non la si è letta o ignorare la Bibbia perché si legge una traduzione sbagliata? Che tipo di ignoranza di Bibbia è migliore? Qual è delle due ignoranze la migliore? Leggere una Bibbia sbagliata o non leggerla? È una domanda alla quale non so rispondere. Certamente noi abbiamo fatto questo tipo di, diciamo, di errore. Cioè non si è data troppa importanza a contatto diretto con le scritture in passato. I nostri ragazzi a volte non sanno cercare un versetto, ho capito, ma se poi ho in mano un'alterazione delle scritture, faccio anche peggio, se faccio conoscere loro un Dio, una visione di Dio distorta. E poi pensate, scusate, ma davvero, tu testimoni, mi stai ascoltando, ma davvero pensi che per 18 secoli Dio abbia potuto nascondere delle verità così importanti come ad esempio quella cosiddetta suddivisione tra prima e seconda classe, tra 144.000 che vanno in cielo e la grande folla che rimane sulla terra? Per così tanto tempo? Poi addirittura, siccome siamo negli ultimi tempi, secondo quello che dice appunto l'autore di guardia anche adesso, quindi per la maggior parte della storia dell'umanità Dio avrebbe nascosto delle verità così importanti, quindi chi pensava di rimanere sulla terra fino al 1930 e qualcosa, quando Rutherford sarebbe uscito con questa cosa? Nessuno, tutti pensavano di andare al cielo, che Dio sarebbe un Dio burlone che ha nascosto una cosa così importante per tutti questi secoli? Capite che tutto nato dal pentolone protestante? Sono tutte realtà nate a fine 800 da questo calderone di movimenti che si influenzavano fra di loro, Russell che ha cominciato a credere anche alle dottrine esoteriche che giravano in quell'epoca, quanti dei testimoni di Geo attuali sanno che Russell e anche Rutherford inizialmente pensavano di trovare nella piramide di Giza le conferme dei calcoli cronologici del conto dei tempi? Quanti sanno di questo riferimento alla piramide? La letteratura passata viene sistematicamente ignorata perché dice, ma che ce ne frega di quello che… ma che ce ne frega? Che ce ne frega del fatto che Russell e Rutherford abbiano pubblicizzato un libro scritto sotto dettatura automatica Angels and Women, Angeli e Donne, dicendo che per capire le macchinazioni di Satana questo libro va letto, questo libro va letto Angels and Women, è scritto nel Golden Age, riviste che non sono false, sono antiche, sono vecchie, ma è scritto nero su bianco, leggete questo libro per capire meglio come opera Satana e poi a pagina 5 ti vede a leggere, questo libro è stato scritto sotto la dettatura di uno spirito, quindi fammi capire, per capire come ragione del demonio tu mi stai sponsorizzando e dicendo di leggere un libro scritto sotto dettatura, capite? Quindi queste cose però sono scritte, basta fare le ricerche giuste e si trova tutto, ma è una sistematica rimozione del passato quello che sta facendo l'attore di guardia, conservate, conservate la letteratura, io adesso sto ricevendo diversa letteratura vecchia e che conserverò, custodio gelosamente, perché sì, ci abbiamo messo la letteratura sul sito, innanzitutto si poteva mettere tutta la letteratura vecchia, volendo, perché non hanno certamente problemi di capienza, di memoria, di server ovviamente, quindi guarda caso però certi tipi di riviste a partire prima degli anni 50 sul sito non le trovate. Cosa ci vuole per disattivare un sito? Un click, in un attimo, tutto avrebbe cancellato, conserviamo le copie cartacee perché sono la testimonianza di un zig zag dottrinale che a mio avviso, a mio avviso, posso esprimere la mia opinione? Sì, lo posso fare, a mio avviso nulla ha a che fare con l'ispirazione, con lo Spirito Santo, con Dio. È un'organizzazione che sta cercando di salvare se stessa, ma mi sto facendo la domanda se invece non siano arrivati proprio l'ultima parte dell'ultimo giorno, dell'ultimo giorno proprio per la Torre di Guardia. Leggiamo un pochino quello che… perché tante persone stanno aprendo gli occhi su questa continua ormai vendita di sale del Regno, perché dobbiamo sostenere delle spese, ma se è tutto su base volontaria, se è tutto su base volontaria, tutte queste spese, per costruire sale del Regno dove? Due baracche in Africa? E che il gettito sta continuando a venire meno perché tante persone non ci credono più, non ci credono più e non sganciano più come prima? Ecco perché è arrivata adesso la circolare con la risoluzione di mettere una quota fissa, una quota fissa mensile, non è una decima, ma ci si arriverà, probabilmente ci si arriverà anche la decima, è un inizio di decima diciamo, questo garantisce un certo gettito costante di entrate, per far cosa? Ciao Francesca, per costruire dove? E tutti questi poveretti che hanno sudato sangue, non fatemi fare il gesto volgare, veramente con passione, con amore hanno costruito queste sale del Regno, ci hanno messo veramente il cuore e lo so, e lo so, perché credevano veramente, avrebbero come diceva uno, avrei arato anche con il naso, perché tutto questo amore, io dico sicuramente non può andare disperso, il Signore sicuramente lo raccoglie e lo considera quando sarà al momento della morte, insomma no, uno dice signore io ho pensato di servirti per 30-40 anni, può essere tutto un grande sbaglio quello che ho vissuto, no fratello, non può essere un grande sbaglio, lo è oggettivamente, però tu che adesso ti rendi conto, tutto l'amore che hai messo anche nel costruire una sala del Regno, quell'amore io credo che abbia una risonanza eterna, sicuramente il Signore non ne terrà conto, sta di fatto che rimane l'inganno, tu prendi, ti approprii, me la vendi, me la sottrai, tutte le chiese hanno riaperto l'opera di attività spirituale, di predicazione e di lettura della scrittura ovviamente e di celebrazione eucaristica eccetera, solamente la Torre di Guardia rimane tappata, chiusa e su Zoom. Allora, leggiamo un pochino di messaggi, avevo proprio desiderio stasera un pochino di salutarvi perché insomma mi mancavate, devo dire anche la verità. Allora, so che non c'entra, dunque Michikan mi ricordi, scusa il tuo nome, perdonami, Michikan Ricordami, qual è il tuo nome di battesimo? No, su Međugorje veramente ragazzi non posso pronunciarmi perché, guarda c'è un semplice fatto, nonostante invece su Fatima, Lourdes, dove ricordiamo che ci sono comunque riconosciuti dei fatti da una commissione fatta di medici non credenti e medici credenti, sono anche medici atei, apposta fatta la commissione, dove viene stabilito in pochi casi di guarigioni istantanee non spiegabili secondo quelle che sono le conoscenze attuali della medicina, tutto qua. La Chiesa prende questi fatti non attualmente spiegabili secondo la nostra conoscenza e mette solamente su pochi, su pochissimi casi applica la definizione di miracolo. Miracolo è una categoria non scientifica, non medica, ma teologica, cioè la Chiesa si impegna con la sua autorità a dire, bene, questa signora non si alzava dalla carrozzina, il giorno dopo si alza, afferma di aver sentito il calore eccetera eccetera dopo la preghiera fatta, bene, possiamo affermare che questa persona è guarita miracolosamente e che è stato un miracolo, ok? Questa è una responsabilità che la Chiesa però si è presa solamente in alcuni casi e guardate che la Chiesa richiede anche la simultaneità, cioè che deve essere qualcosa di improvviso, cioè non che guarisca ad esempio nel corso di una settimana, perché accadono anche questi casi, che queste persone dichiarate assolutamente inguaribili, ripeto, secondo le attuali conoscenze della medicina, invece poi guariscono inaspettatamente. Persone che senza il nervo ottico vedono, cioè ci sono dei fatti oggettivamente non spiegabili, ma il medico ateo continua a rimanere medico ateo, nonostante che abbia messo il suo sigillo e abbia detto sì effettivamente non possiamo spiegarlo, questi sono i fatti sull'Urd. Torniamo alle Međugorie, il fenomeno non si è ancora concluso, io sono stato a Međugorie, personalmente posso dire che ho visto tanta preghiera, anzitutto, il mio miracolo più grande è la preghiera, c'è tanta preghiera, tante persone che tornano cambiate, per me questi sono i miracoli più importanti, che la persona torni e questo cambiamento continui anche quando torna a casa. Una volta ho chiesto a un vescovo, diceva non si preoccupa quante persone, poche persone vengono ammessa nella sua diocesi e il vescovo ha risposto giustamente, mi preoccupo soprattutto come escono da chiesa quei pochi che vengono, questa è la cosa più importante, se la liturgia, se la messa non ti cambia la vita, non serve a niente, se è solamente un praticante non credente, se è solamente uno che viene a scaldare la panca, ma se la liturgia, se la preghiera non incide nella tua vita, se tu accettando Gesù non modifichi la tua vita, non se ne fa nulla, manco del certificato di battesimo a Gesù non si fa niente, quindi non può pronunciarsi Michigan, Alessandro ecco, Alessandro non si può pronunciare la chiesa perché è per il semplice fatto che il fenomeno innanzitutto deve concludersi, è ancora in corso. No, no, ci mancherebbe Alessandro, mi fa molto piacere, anzi quando mi fate domande, di anche, ti chiederei la cortesia, quando mi presentate, dimmi il nome di, insomma come si suol dire, di battesimo, anche se non siete battezzati magari, non è detto, quindi capite, però ecco, dicevo a Međugorje, io ho visto comunque delle cose anche lì non spiegabili, non spiegabili, ho potuto guardare direttamente nel sole, che per quello che non so io e come sapeva anche il povero Galilei che rimase cieco perché con le osservazioni con il telescopio poi riportò delle lesioni appunto agli occhi e gli venne cieco negli ultimi anni, ho potuto guardare nel sole, però non mi piace insistere su questo fatto miracolistico, quello che ho visto, alla fine sono questi, sono veramente dettagli se volete, a volte il Signore si compiace di dare dei segni, però attenzione a dire che sia Satana perché altrimenti qui torniamo all'argomento giustamente usato da Gesù, un regno diviso in se stesso non può reggersi, se avvengono miracoli a Međugorje e mi dite che è Satana, allora abbiamo un problema, che Satana combatte Satana, se la gente si converte e cambia vita, questo Satana non piace, se ci sono tante persone che lì veramente lasciano la droga, con un ragazzo di punto in bianco, veramente ha lasciato metadone e tutto e continua, veramente in questa guarigione e nessuno l'ha aiutato se non Gesù Cristo, semplicemente ha sentito questo impulso, gli buttasse in ginocchio un giorno proprio d'amblè, stava lì, i suoi erano andati appunto a pregare in chiesa, ha sentito così, stava camminando, ha sentito questo impulso, questa voce, lascia le medicine, il tuo medico sono io, ha sentito questa voce proprio chiara, distinta, forte, dice padre non mi credono, ma infatti sono questi, questo ragazzo sta benissimo, si è buttato in ginocchio, ho sentito due mani dietro di me, non c'era nessuno, in campagna praticamente in un biottolo lì, ho sentito due mani che mi hanno spinto a terra, mi sono fatto pure un po' male alle ginocchia per quanto lascia le medicine e il tuo medico sono io, da allora non tocca droga, sta benissimo, questi sono i miracoli veramente che a volte vengono, sono gratis appunto perché la grazia agisce, lo spirito soffia dove vuole e quindi non possiamo dire perché ha quello sì o quello no, è un'iniziativa libera di Dio perché San Paolo l'ha convertito e gli altri del Sinedrio no, perché c'è un progetto, c'è una missione anche no, ciao Angel, venendo a noi, io non è che non farò più video, però sono impegnato adesso in carcere, ciao Davide carissimo, grazie di avermi svelato il tuo nome, sono impegnato in un progetto abbastanza delicato in carcere e soprattutto e poi comunque ho anche sette ore in una scuola professionale appunto dove comunque anche lì non è una passeggiata perché siamo tutti bravi a fare i parloci in parrocchia, capito, con i ragazzi, capito, e dono qua, dono là, ciao come stai, capito, le famiglie bellissime, voglio dire, ho delle famiglie stupende in parrocchia, delle persone, beh una ve la devo dire, veramente c'è una famiglia che veramente mi commuovo ogni volta a pensare, pensate hanno adottato tre bambine africane, sorelle, cioè tutte e tre disabili, con pesanti disabilità, allora è facile dire il bambino nero, vado e prendo, adotto un bambino nero, una bambina nera, perché comunque fanno una tendenza incredibile, io sono stato missionario un anno in Ghana e sono meravigliosi, capito, perché hanno questa semplicità di vita e veramente lì ho imparato, solamente imparato io, io non ho portato nulla se non avevamo questo progetto di scolarizzazione, grazie ai soldi dell'otto per mille, a proposito, ecco, quando si parla dell'otto per mille, grazie a questi soldi ho potuto avviare l'apertura di tre scuole, ma pensiamo anche agli ospedali, gli ospedali che si mantengono con l'otto per mille, quando si parla senza sapere le cose, ragazzi, veramente, non c'è cosa più brutta dell'ignoranza basata sul pregiudizio, tanto, cioè come se la Chiesa Cattolica fosse solo il Cardinale Bertone, che Dio lo abbia in gloria, non ancora più, che chiaramente ha fatto quello che ha fatto, ci vuole dire l'appartamento lattico, ma la Chiesa Cattolica, ridurre la Chiesa Cattolica, il Cardinale Bertone, sarebbe come dire che tutti i tedeschi sono nazisti, capito? Vi prego, approfondite le cose, informatevi, venivi a trovare poi a me in comunità, vedete quello che facciamo? Non chi dice signore, signore appunto, quindi parlavamo dell'Africa appunto e l'esperienza, poi sono stato ammalato con la malaria, stavo per incontrare l'inquilino dell'ultimo piano e i superiori mi hanno richiamato perché insomma era il secondo attacco di malaria, che poi me ne sono accorto da solo perché ho cominciato, ero lì nel conventino che avevamo costruito, poi c'erano due villaggi vicino, poi arrivo Lorenzo, si è detto una frase molto importante, questi villaggi vicino, no? Ah, perché vi racconto un fatto che tanto avete già mangiato, quindi ve lo posso raccontare, e niente, praticamente insomma c'erano queste attività che facevamo di giorno e un giorno mi sono, perché non c'è il vaccino per la malaria, bisogna proteggersi con le medicine, come si può dire, c'era il malarone allora e l'elarium, l'elarium credo che l'abbiano tolto dal mercato perché tipo hanno trovato della gente in piedi su un cornicione con delle forbici al collo, quindi effetti diciamo psicologici un po' importanti, allora io siccome poi ho detto, sapevo che sono anche pesanti per il fegato, siccome devo stare comunque come progetto diverso tempo, un tempo lungo, ho detto vabbè mi proteggo così, mi proteggo con gli spray, con i foulard, con le cose e soprattutto cerco di non uscire all'imbrunire, perché la nofele, la zanzarina colpisce all'imbrunire, cosa è successo? Che erano nati una cucciolata di gattini, no di cani, e io questi cuccioli li ho sentiti guaire, incuriosito, sapevo che stavano per nascere, incuriosito sono uscito verso le 5 e mezzo 6 per cercare questi cuccioli, magari dico ha bisogno, non ha anche questo cagnadino poverino, e lì probabilmente mi ha fregato, dico probabilmente perché all'imbrunire colpisce, praticamente dopo un giorno o due giorni ho cominciato a sentire i brividi, i brividi forti, proprio scuotenti, cioè tremava il letto, tremava, sudorazione tremenda, dissenteria tremenda e ho detto ragazzi, qua questa è malaria, portatemi subito in un ospedale perché stasera fate un funerale. Ho avuto il tempo di rendermi conto di questo, durante il tragitto ho perso conoscenza e mi sono svegliato il giorno dopo con la dottoressa che appunto venne a trovarmi e a dire, insomma, you got malaria, hai preso la malaria, ma guarda, pensavo fosse un raffreddore, ho capito che era malaria e perché cosa succede? Che poi aveva una temperatura altissima, quindi il cervello non può sopportare una temperatura troppo forte e quindi mori poi. Però devo dire che ero molto sereno, ho avuto una grande serenità dentro di me. Mi sarebbe dispiaciuto certo lasciare chi lasciavo, mia mamma c'era ancora al mondo, mio papà, tutti i miei amici, però è così. Chi segue Gesù, insomma, i ministri, ma tutti i missionari, cioè noi la vita l'abbiamo già donata a lui, quindi è comunque a lui appartiene, quindi non dobbiamo avere paura di questa porta che ci conduce a lui, quindi va benissimo, quando lui vorrà siamo qua, vero? Siamo qua. Però dobbiamo anche pensare, mi fa pensare veramente ai disagi, davvero, ecco questo a me dispiace che tornando ai nostri testimoni di Giova, la società non menzioni mai, 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 se ci fate caso, ecco su questo rifletti per favore, amico testimone, amica testimone, è possibile che in tutto quello che avviene nelle chiese cristiane, non parlo solo della chiesa cattolica, tutto quello che fanno anche gli evangelici, fanno delle cose meravigliose, non ci sia neanche una cosa positiva in tutto quello che fa, cioè Babilonia la Grande ha tutto spiano, sono tutti puttanieri, scusando il termine, sono tutti corrotti, sono tutti malvagi, sono tutti, cioè non esistono suore che prendono smitragliate dei Boko Haram, non esiste nessuno, quanti testimoni di Giova ultimamente, grazie al cielo, non sono morti negli ultimi anni, ma quanti cristiani muoiono anche adesso, in questo momento, mentre sto parlando, che ne è agli occhi della Torre di Guardia di questi cristiani. E quindi io ho lasciato i miei colleghi missionari a vivere di privazioni, io mi sognavo il pane ragazzi, il pane è quello che esce dal forno e lì proprio non c'è, non c'è sta niente, ero in Ghana nella zona di Kumasi e la pasta sta a partire, veramente questo, sono stato un anno, ma pensate a chi ci vive lì per tanto tempo, nel clima, l'umidità pazzesca, quando sono sceso la prima volta dall'aereo, c'è stato questo muro d'acqua che mi ha investito e proprio non respiravo, dico, ma io qua come faccio? Io che soffro il clima umido, figuriamoci, lì proprio, no ma io qua non ce la posso fare, cioè non respiravo proprio, e poi insomma così tante cose, però ecco vedere il sorriso del bambino che c'è proprio, è una esperienza bellissima ragazzi, io veramente vi consiglio di farla, perché noi abituati veramente ad avere tutto, 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 condividere questa privazione di cose, questo tornare all'essenzialità, i bambini che andavo a trovare nei villaggi vicino, le famiglie ormai ci conoscevamo tutti e mi dicevano, vedevo anche a volte dei bimbi vetti tutti belli, no, con quello che potevano vestirli per andare a scuola, ma non potevano andare a scuola, non c'era la scuola, però gli mettevano lo stesso, uno zainetto, non so, ho comprato dal mercato, no, zainetto per dire, insomma, no, cioè perché comunque gli davano l'illusione che è importante andare a scuola, ma tante cose non si possono trasmettere, non si possono, c'è bisogno di viverle di persona, quindi ricordiamoci, c'è una parte venente di mondo che vive in un posto dove tutti hanno preso, tutti hanno attinto e continuano a tingere, questo posto appunto si chiama effettivamente il terzo mondo, quindi non parlo solo dell'Africa, c'è una parte di mondo che soffre dell'egoismo di tanti, piantiamo la vostra storia che non c'è cibo abbastanza per tutti, il problema è la distribuzione, non la carenza di cibo, che è diverso, quindi caro Malthus, tu che propugnavi questa tesi appunto per cui ogni tanto arriva una bella epidemia ed è giusto perché è la natura che si deve sbarazzare del superfluo, non è così, il problema è veramente chi spende 300 milioni di dollari per potersi fare un viaggetto privato su Marte, ok? e pensare quante bocche si possono sfamare con questi 300 milioni di dollari e non pensiamo appunto che il Vaticano sia Fort Knox, Fort Knox è la riserva forse maggiore mondiale di oro, ridimensioniamo tutte queste cose, per favore, veramente io non ne posso più di sentire offendere la Chiesa su questo, la Chiesa ricca, la Chiesa fa tantissimo, vi assicuro che ci sono tante cose che la Chiesa non dice ed è giusto che sia così e che fa, a Milano i francescani servono mille passi al giorno, solamente i francescani per dirne una, poi c'è la comunità meravigliosa dei nuovi orizzonti, quanta gente che approda per il recupero, ma tante cose, quindi prima di parlare per favore, io che la vivo dall'interno della Chiesa, per favore veramente informatevi bene sulle cose, non siate vittime di questi pregiudizi che impediscono di raggiungere la realtà, di capire veramente come stanno le cose. Questo purtroppo, Lorenzo dice che, appunto la frase che diceva prima Lorenzo è questa, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, sì purtroppo i casi gravi di pedofilia nella Chiesa Cattolica, l'Istituto Provolo di Verona, citiamo anche delle cose brutte, delle pagine bruttissime, non brutte, questi sacerdoti dell'Istituto Provolo che avrebbero dovuto, pensate no, cioè eseguire, curare l'istruzione di ragazzi sordomuti, come cazzarola fai ad abusare di un bambino sordomuto? Sei proprio malato, male proprio nel profondo e anche con la complicità delle sue ore, quindi sono successe le cose inenarrabili, io me ne rendo perfettamente conto e mi sento il cuore lacerato quando leggo queste cose, quando so di queste cose, però ripeto, poi abbiamo avuto un Dognocchi, no? Con tutti gli invalidi, abbiamo avuto un San Giovanni Bosco, un Giuseppe Cottolengo, cioè quello che hanno fatto, tante figure bellissime nella storia della Chiesa, andiamo a conoscere tutto, se dobbiamo approfondire la conoscenza di una realtà appunto complessa e così con tanta vita alle spalle come la Chiesa Cattolica, non limitiamoci solamente a qualche episodio che pure è grave, un fenomeno va conosciuto nella sua interezza, nella sua complessità e così, grano e esiziane crescono insieme, ci ricordo Lorenzo, è così, me lo dico sempre io, la linea di demarcazione tra grano e esiziane passa attraverso il cuore, è una delle mie frasi più ricorrenti, passa attraverso il cuore di ognuno di noi, non tra un'organizzazione e l'altra, è nel cuore di ognuno di noi che passa questa demarcazione, è nelle scelte che facciamo ogni giorno, Shasha giustamente ricordava che la mafia non è un'organizzazione, è un modo di pensare, quindi è nelle scelte che faccio ogni giorno, se scelgo per la legalità, se scelgo per la luce, se scelgo per la vita, se scelgo Dio nelle mie azioni, se ho Dio come riferimento, se so che Dio come si diceva una volta mi guarda e tante cose, tante sciocchezze sono sicuro che non le faremmo, poi facciamo i capricci purtroppo perché è così, tante volte amiamo il male e cos'è amare il male? Il peccato, quando amiamo il male commettiamo i peccati, quando il cuore si attacca a quel difetto, a quel vizio, a quell'atteggiamento, anche a quell'odio, l'attaccamento all'odio, non posso perdonare questa cosa che mi ha fatto mio fratello, mia sorella, no, questa proprio a vita non la potrò perdonare, quello è un rame, che soffoca, appesantisce il cuore, quindi carissimi, mi spiace solamente che non ci può essere anche la voce, perché sarebbe bello sentire anche le vostre voci quando facciamo queste chiacchierate, che ore sono fatte? Domani mattina devo alzarmi presto, quindi così tornerò a fare qualche video, ma probabilmente non avrò tutto questo tempo, ripeto, perché questo impegno che ho avuto al carcere mi impegnerà sicuramente molto, abbiamo molte riunioni da fare a causa anche del Covid, perché ha rivoluzionato anche all'interno delle carceri, l'arrivo di questa pandemia e questo ha comportato anche tanti cambiamenti a livello organizzativo, quindi bisogna veramente studiare, ad esempio in ogni classe nel carcere non ci potranno essere 18 persone come prima, ma massimo 7, quindi dobbiamo anche, insomma tante cose di cui anche voi comuni mortali come me dobbiamo tenere conto perché si scongiuri l'ipotesi, speriamo appunto di allontanarla di un ulteriore blocco, quindi comunque la mascherina indossiamola perché comunque non dobbiamo cadere nel terrorismo nelle cose, perché comunque dobbiamo anche imparare a gestire il rischio, ad avere anche una certa, considerarlo che esiste comunque il rischio, entro in un ascensore, dopo un secondo prima c'è stato uno con Covid, è molto facile che con tutta la mascherina che ho, tocco una maniglia, per dirne una, quindi non possiamo eliminare il rischio della nostra vita, questo ricordiamocelo perché vivere è rischiare, però al tempo stesso abbiamo una grande cosa che il Signore ci ha donato che è l'intelligenza, ecco facciamone buon uso, semplicemente a volte si parla credo di un buonsenso, del buonsenso. Così carissimi, quindi spero che continuiate a seguire questo canale perché comunque insomma dividono i fatti e ho cercato di toccare vari argomenti, sono stato anche citato in un canale, ma non ne parlerò per non fare pubblicità perché mi sembra stata, è stata una operazione piuttosto triste questa cosa perché quando si è travisati anche nelle parole, il problema per cui con alcune persone non riesco è perché mi accorgo, forse questa presunzione, probabilmente sono presuntuoso, riconosco, però di capire quando c'è veramente l'intenzione di dialogare e quando no, quando capisco che tu mi stai facendo uno studio, mi stai praticamente cercando di portarmi dalla tua parte e lì vengono meno le premesse dello stesso dialogo, non è più un dialogo, ha senso unico la cosa, allora veramente ho altro da fare e quindi lì interrompo del successo alcune volte. Quando c'è una particolare vista polemica in cui tu so già che ogni cosa che dirò praticamente, è anche proprio il modo anche, io su questo ho questo difetto e questo difetto ce l'ho in mezzo a tanti altri, che quando una persona ha un taglio un po' più aggressivo nei miei confronti, con lì mi blocco un po', mi dispiace perché dovrei essere un po' più invece, come dire, comprensivo, dovrei essere un po' più aperto, mi è successo di bloccare anche delle persone che hanno cominciato così a parlarmi in maniera un po' aggressiva, mi dispiace, è un mio limite questo, non riesco a superare questa cosa, allora è blocco, anche se probabilmente non dovrei. Vi mando un bacione, abbiamo fatto un po' due chiacchiere e vi auguro la buonanotte, statemi bene, Dio vi benedica.